Penso che è stata una vittoria voluta da ragazzi, è stata una partita che ci ridà il sorriso e i tre punti, che è una cosa importante. E mi è piaciuta anche la prestazione e l'atteggiamento di chi ha giocato e chi non ha giocato. È una buona gara contro una signora squadra che è il Sassuoli, che a un certo punto giocava con quattro punti. Però abbiamo concesso poco, abbiamo avuto, non prendendo lavoro dopo tanto tempo, è una cosa che ci fa piacere anche questa. Sono contento perché è il frutto del lavoro, quando lo sei sempre sotto, lo non perdi, magari cominci a avere dei dubbi del lavoro. Però ho visto che i ragazzi hanno una determinazione di portare a casa il risultato e l'hanno fatto con ordine, senza mai perdere la testa. Forse potevamo anche chiudere la partita, invece abbiamo fatto un po' di fraseggi. Mi si ammirò in questa determinazione, nella cattiveria di voler vincere e chiudere la partita senza rischiare. Questo è un passo che ancora dobbiamo fare, però oggi ho visto qualcosa di buono nell'atteggiamento, nella determinazione, nell'utarsi. Ecco, questo è un collo.